Attenzione animali vivi Come mai ci sono i poni? Non ho capito Come mai ci sono i poni qua? Sono di 25 anni i poni, sono stati qua sempre Ah io non sono mai stato qua Non li avete visto? Non ho mai visto i cavalli qua Io non sono mai stato qua Perché i cavalli sono qui da 130 anni Perché io nei parchi difficilmente Al parco di Monzo ho visto il maneggio Ma un parco dove ci sia, uno spazio recintato dove ci sono i poni E perché mi portano in giro i bambini Cioè fanno salire Ma questo non lo sapevo Il maneggio è anche carino Allora 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 Grazie.